buongiorno da obiettivo news oggi 13 settembre san giovanni crisostomo ogni anno in tutto il mondo il 13 settembre viene celebrata la giornata mondiale per la lotta alla sepsi world sepsi day la sepsi è la grave complicanza di un'infezione che danneggia sessuti e organi compromettendo nel funzionamento e che può portare a shock insufficienza multi organo e morte soprattutto se non riconosciuta e non trattata prontamente iniziativa globale volta da crescere la consapevolezza pubblica su questo tema per migliorare la prevenzione e riconoscimento la gestione clinica del sepsi in particolare nei paesi in via di sviluppo ma anche nel nostro paese anche quest'anno il ministro della salute rinnova il proprio impegno nel sostenere la campagna promossa dall'organizzazione mondiale della sanità